ciao a tutti buongiorno sono luigi corretti andrea ship oggi vi volevo far vedere la differenza tra un pozzetto centrale che una barca che un tipo di disegno di concetto che ha avuto un grande successo nei primi anni 2000 che adesso si vede un po meno in giro in mediterraneo e dei pozzetti invece moderni con le due le due ruote con il pozzetto aperto che molto più mediterraneo dietro di me abbiamo proprio un san bim e un alberrassi che sono due barche tipiche col pozzetto centrale del quale andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche i pregi e difetti perché di questa di questa scelta questo è un san bim 44 primi anni 2000 una barca quindi importante prodotta da samba in biot su a salisburgo e quella vicino tutta chiusa è un alberrassi queste barche sono soprattutto l'alberrassi ma anche il sambi insieme a naiad sono le tipiche barche con il pozzetto centrale potuto centrale c'ha che era delle dei vantaggi enormi sugli interni sulla cabina di poppa quando abbiamo una cabina di poppa che prende tutto questo spazio che noi vediamo questo prendisole quindi sicuramente molto ampia con un letto a isola quindi un letto come a casa sicuramente è un pozzetto molto protetto molto chiuso tipico dei mari del nord dove si vuole chiaramente avere essere lontani no dagli schizzi in caso di di mare di mare impetuoso essere protetti e con con la possibilità quindi di fare navigazione impegnativa perché poi come vediamo sul sul alberrassi possiamo addirittura chiudere tutto con tutto il pozzetto rimanere al chiuso perché stiamo parlando chiaramente di latitudini dove piove spesso e piove molto per contro la cosa che che bisogna dire è che certamente sono protetto certamente sono al chiuso certamente navigo anche in condizioni impegnative e neanche non prendo una schizzo quasi quasi posso stare dentro questo pozzetto senza cerata però per contro queste barche che paradossalmente sono barche sempre gestite da coppie anche piuttosto anziane in realtà hanno un limite perché quando tu sei al timone lì al centro se fai una manovra non puoi aiutare chi sta ormeggiando la barca perché se io sono seduto come su una su una ruota a poppa almeno la cima a terra la potrò tirare mentre da lì chi sta al timone può stare solo al timone quindi va benissimo in navigazione va benissimo quando quando sono sono appunto in in mezzo al mare ma quando arrivo in porto ho bisogno di una persona in più bisogno di una persona prua e ho bisogno di una persona poppa andiamo a vedere la differenza con un pozzetto completamente aperto andiamo a vedere una barca relativamente piccola e vediamo le dimensioni di un pozzetto moderno abbiamo qua due o tre barche vicine di tre cantiere diverse che abbiamo un dufour un elan e un bavaria con i quali possiamo notare la differenza di una barca appunto mediterranea rispetto al pozzetto centrale che abbiamo visto prima il pozzetto centrale era un pozzetto chiuso un pozzetto appunto posto al centro della barca molto protetto qua invece se noi guardiamo per esempio questo dufour è un 310 un 31 piedi quindi una barca relativamente piccola e ha un pozzetto che paradossalmente più grande di quel sambi in 44 dei primi anni 2000 che abbiamo visto guardate l'importanza delle ruote e la grandezza del tavolo e oltre a questo possiamo vedere che abbiamo una circolazione molto facile e c'è quell'aspetto che dicevo prima che chi è al timone a poppa mentre fa le manovre può anche lanciare una cima a terra quindi è anche più facile da gestire da notare poi che nel caso di questo dufour abbiamo una poppa chiusa in realtà questa questa spiaggetta dietro la doppia funzione perché è una funzione sia di chiudere la poppa per dare un senso di protezione ma quello di essendo una barca piccola aumentare ancora di più il calpestio vivibile perché in baia quando sono fuori in all'ancora apro la poppa apro lo spoiler apro questa spiaggetta che sulla quale posso stare mentre faccio il bagno e quindi c'ho più spazio da vivere se andiamo a vedere un'altra barca sempre con le due ruote vediamo un'impostazione più sportiva anche qua abbiamo due ruote abbiamo un ampio passaggio non abbiamo il tavolo in pozzetto perché chiaramente questa è una barca prettamente sportiva quindi un tavolo sarebbe un intralcio perché quando fai le virate dovresti passare intorno al tavolo che sarebbe inconcepibile in una barca in una barca sportiva certamente abbiamo una panca dietro aperta anche per motivi di peso perché chiaramente una spiaggetta come quella della barca prima sarebbe troppo pesante per una barca sportiva quindi abbiamo solo una schiena d'asino che può fare anche da da passarella e anche qui due ruote con due piedistalle due due piedistalli che si vede due colonnine che sono anche qua più leggere perché non sono integrate perché anche essendo una barca appunto sportiva il peso ha la sua importanza e se noi andiamo a vedere una barca ancora un pelino più grande che un 40 piedi vediamo che anche qua abbiamo lo stesso concetto del dufour siamo sempre su una barca sportiva abbiamo due ruote abbiamo una spiaggetta ancora più importante più grande che chiude tutto il pozzetto e questa spiaggetta ha la stessa funzione passendo una barca da crociera di aumentare calpestio quando sono in baia di poter aprire completamente la spiaggetta quindi avere un altro metro metro e mezzo di vivibilità due ruote il concetto è quello che dicevamo prima sia di poter vederle vele ma anche appunto in ormeggio risulta risulta facile poter buttare una cima poter quindi collaborare all'ormeggio della barca è un tavolo che poi tipico delle barche da da crociera al centro che ti fa che ti permette di vivere il pozzetto questo pozzetto addirittura se vediamo è tutto coperto da da un bimini e da uno spray hood quindi un concetto assolutamente da barca per andare per andare a spasso quindi abbiamo visto la differenza tra il sunbeam 44 con il pozzetto chiuso l'alberrassi con addirittura tutto il pozzetto coperto e invece delle barche moderne mediterranee con le due ruote a poppa messe proprio all'estrema poppa all'estremità della barca bella dire il dufour l'elan e il il bavaria abbiamo visto quindi la differenza tra una barca un pozzetto centrale come dicevamo prima è tipica soprattutto di di sambim di alberrassi che è stata la più diffusa in italia di neyad e poi in realtà anche alcune cantiere di serie quando questo pozzetto centrale andava un po di moda hanno provato a farlo perché troviamo delle barche francesi col pozzetto centrale che poi hanno smesso però la produzione e la differenza tra dei pozzetti tradizionali sportivo come quello dell'elan o più da crociera come quello del dufour e del e del bavaria penso che le differenze che vi ho detto siano abbastanza evidenti sia di comodità che di gestione è chiaro che come tutte le volte come tutte le scelte dipende un po dall'uso che dovete fare se dovete fare navigazioni impegnative in relazioni in cui dovete stare all'asciutto avere un bel pozzetto centrale con un bello spray hood vuol dire poter navigare anche con mare formato forse quasi senza mettersi la cerata e mentre se dobbiamo vivere in mediterraneo dobbiamo vivere d'estate avere un bel pozzetto ampio con un'ampia circolazione con la possibilità di scendere salire con una bella spiaggetta come quella del bavario del dufour per andare in acqua per avere ancora più vivibilità penso che sia la scelta giusta come sempre ogni barca vuol dire una scelta e la scelta deriva dall'uso che della barca devo fare se avete trovato questo video interessante iscrivetevi al canale continuate a seguirci ci vediamo alla prossima